L'ultimo test match contro l'Artena che la nazionale di calcio a 5 ha affrontato al pala Cesaroni di Genzano prima della partenza in Croazia è servito a mister Menichelli per chiarirsi gli ultimi dubbi. Giovedì infatti il gruppo di 20 giocatori che si è radunato a Genzano verrà sfoltito perché secondo le normative UEFA solo 14 saranno coloro che potranno prendere parte ufficialmente alla manifestazione. Contro la formazione dell'Artena seconda forza in campionato nella Serie C1 sono stati disputati due tempi da 40 minuti circa. Eccezione fatta per Luca e Politi nella prima parte dell'incontro hanno trovato spazio tutti coloro che non erano stati impiegati nella precedente amichevole con la Lodigiani ma nel corso della partita tutti gli azzurri esclusi i portieri Mannarella e Barigelli e Luca Leggero che ha svolto una seduta di allenamento differenziato hanno assaggiato il terreno di gioco. Alla fine la squadra azzurra che ha provato tutte le varie situazioni tattiche possibili si è posta per otto reti a uno. Sugli scudi Alessandro Patias autore di una tripletta mentre sul tacquino dei marcatori sono finiti anche il capitano Marzio Forte autore del gol in apertura Massimo De Luca, Gabriel Lima, Douglas Nicolodi e Vampeta. L'Artena che ha dimostrato di essere una squadra dotata di una buona consistenza tecnico-atletica è andata invece a segno con Rocchi. Dopo il giorno di riposo che Menichelli concederà agli azzurri venerdì 27 sabato alle 18 la delegazione azzurra partirà alla volta della Croazia con un volo che decollerà dall'aeroporto di Fiumicino con destinazione Spalato. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo C degli europei ed esordiranno mercoledì 1 febbraio contro la Turchia alle ore 17.15 mentre domenica 5 febbraio affronteranno la Russia alle ore 20.30.